pronto ospedale pubblico giacomelli mi dica le serve il risultato del tampone come si chiama lei no guardi deve aspettare un altro po e sì noi dobbiamo essere sicuri controlliamo tutto noi qui nel pubblico sì 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 prima di natale non ce la facciamo no natale di quest'anno non si preoccupi sì noi controlliamo tutto controlliamo qui al pubblico si controlliamo anche il gene n si è importante anche il gene x che il cugino del gene n si a volte litigano non si sopportano quindi quando litigano è negativo quando fanno pace positivo capito è importante anche il gene x y che il cugino del fratello del cognato del gene n è stisi a volte ci giochiamo anche la tripla quindi riusciamo anticipare i tempi ma non è il suo caso a lei servono prima i risultati perché sono per del lavoro guardi allora non si preoccupi chiami a questo numero è un privato il risultato arriva prima guardi 3 3 3 scriva 4 5 6 3 7 2 1 8 non si preoccupi è stato un piacere arrivederci sì pronto sono sempre io ma privato questa volta se mi diceva le stelle di risultato del tampone sì guardi ce l'ho subito ce l'ho qui proprio aspetta lo prendo è sì ce l'ho qua guardi è negativo può andare al lavoro si vede subito lo vedo qua davanti no ma si vede proprio colore chiaro gusto pulito sì sì è poco tanninico però è andava tenuto più in botti in rovere sì però al lavoro ci può andare non si preoccupi vada vada la fattura gliela invio tramite mail tanto so tutto ok la devo lasciare scusi mi dispiace che mi stanno chiamando al pubblico ok arrivederci arrivederci sarà un piacere pronto le serve risultato del tampone sì natale prima non ce la facciamo no 2022 e no è certo dobbiamo essere sicuri qua